pazzo sbrado colline di colte consegna l'esplosivo nel territorio in mezzo alla neve va arriva va ce la metteremo tutta ce la metteremo tutta sicuramente laaaaaaaaaaaaaaaaaa non ando a arrivare non ando a arrivare ci sto provando ma arriva un sogno giuro che è ma si è su e arrivano a due a due non devono arrivare non arriva non arriva nooo muoi si però muoi si però muoi si però dai picciotti dai dai picciotti non le fate arrivare dai 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 che non arrivano dai 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 chi va gasp va 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 però come è finita la fine abbiamo perso per le uccisioni abbiamo perso per le uccisioni qua dobbiamo rubare il bottino merda 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 ragazzi sta arrivando sta arrivando fuciare mario ok morto 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 ciao mario ma che cazzo era un missile un seluro mi spara qui ma che cazzo questa volta è dura sono abbastanza abbastanza forti e l'abbiamo persa di nuovo questa volta l'abbiamo persa di nuovo io ne ho cerchionati due sono fuori ottimo nooo c'è una femmina che è bella assurda andiamo a sta femmina allucinata tutta ammazzata solo tu vuoi arrestare stevia come sui solo tu vuoi arrestare sta tutta ammazzata sta femmina e hanno vinto ammazzata ammazzata mario l'ammazzata grande grande piero ammazzata grande grande piero e bravo peruccio bravo 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 dai vuol dire hanno fatto più uccisioni di noi solo che siccome arriva io vivo se vince chi resta vivo non hai chiede il mio canone il giocatore quelle veri di fps ne hanno chiesto 10.000 come lo chiamo tu chiede oh morona mi ha chiede con un colpo praticamente mi ha sconcassato un colpo solo mi vince non 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 dobbiamo arrivare assolutamente bene mor a trovare mario dai 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 chi tu a trovare a trovare a trovare come a trovare può essere male a trovare a trovare dai che noi stiamo ah cazzo nooo c'era una un altro con me che forse stava prendendo il bottino forse c'era sessantamila erano sessanta sessantamila erano bada bada cane merda e non riusciamo mai ad andare a prendere un cazzo di bottino è finita la pietta lo bello bello lo è che finita la pietta dai che uno è arrivato e? uno è arrivato a prendere il bottino l'ha preso, arriva ammazzare ammazzare uggigliare fin ammazzare dai 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 non trovameli fanculo l'amma fanculo erano in troppe non si riusciva peccato ah noioso al primo posto noioso dovrai essere tu a consegnare l'esplosivo Piero si si io ci metto su io fai del tuo meglio marone mi ha ammazzato l'ha ammazzato ammazzatelo che arriva no 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 merda cane però merda merda e mario c'è ancora tempo ancora eh lo so sto provando ad andare ci provo forse ce la faccio forse ce la faccio perché si sono portato avanti però no 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 c'è qualcuno uno è morto vai 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 ce l'ho fatta ce l'ho fatta fatta uno è andato muori bastardo dai dai che ti proteggo vai avanti vai avanti pazzo vai 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 che sono qui con te marta tutt'ora un ammazzato che proteggo me cazzo è si potevano fare io più di questo non sono riuscito a fare neanch'io secondo me è un discorso di strategia mario si sono sempre più convinto anche non riusciamo mai a giocare bene ma la strategia ha due dovremmo essere tutti tutti infatti troppo c'è poco da fare così conquistare oh no 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 che non ce ci può giocare con queste non lo so man ce ci può giocare in questo giro è tra dieci minuti no no a gennaio ragazzi dai dai conquistiamo grande 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 dai 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 ragazzi dai conquistiamo dai 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 che l'abbiamo spaccato questa volta dai che l'abbiamo spaccato dai che l'abbiamo spaccato questa volta dai che questa volta l'abbiamo spaccati dai che l'abbiamo spaccati e che cazzo dai 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 Fanculo Dai 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 Che l'abbiamo rotti tutti questa volta Marda Arrera ne fottelo dale Arrera ne fottelo dale Dai 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 che l'abbiamo vinto dai Grandioso Va bene Grazie a tutti 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 Grazie a tutti